Con la nuova linea di materassi dispositivi medici di Riccardo Corredi ti faremo sognare come da tempo non facevi. Basta mal di schiena e dolori cervicali. Festeggia con noi il quarantesimo anniversario di attività. Materassi matrimoniali Made in Italy a partire da 199 euro. Vieni a informarti e scopri i vantaggi fiscali e gli omaggi di Riccardo. Riccardo Corredi da 40 anni di me ti puoi fidare. Ed è per questo che abbiamo creato una linea medica apposta per voi per festeggiare il quarantesimo anniversario di attività. Abbiamo una gamma completa di linea medica, le abbiamo più morbidi, più rigidi, più alti, più bassi, personalizzabili e naturalmente sono materassi con tutti i vantaggi fiscali. IVA 4%, detrazione fiscale del 19%, quindi potete venire a provarlo e quando venite chiedetemi gli omaggi perché ci sono tanti omaggi da Riccardo Corredi. Poi abbiamo i materassi matrimoniali Made in Italy a partire da 199 euro e da qui fino a quelli medici troverete una gamma completa che sicuramente c'è il materasso per la vostra schiena. Basta con i dolori, basta con i dolori cervicali. Il materasso è la prima medicina che dobbiamo avere perché a letto andiamo tutte le sere. Non ho mai visto dormire una persona in piedi perché ci sono materassi e materassi e per dormire ci vuole la qualità. Riccardo Corredi ci vuole che vi dà il giusto riposo con 40 anni di esperienza. Poi potete provare naturalmente anche tanti letti. I letti sono personalizzabili, tutte le misure, singoli, piazze e mezzo matrimoniali. Li facciamo con contenitore, senza contenitore, ma non col contenitore che c'è il ferro avvitato nel truciolare che quando lo alzate o vi si rompe la doca oppure si sbriciola il truciolare. Sono letti fatti in Toscana e poi abbiamo anche le poltrone, le poltrone relax, anche quelle con tutti i vantaggi fiscali, pagamenti rateali, col tasso zero, personalizzabili anche quelli. Insomma, Riccardo Corredi ha pensato a tutto e ha pensato a voi e vi devo ringraziare del grande successo che mi avete dato in questi 40 anni di attività. Da Riccardo Corredi troverete anche il materasso matrimoniale Made in Italy a sole 199 euro. E poi chi è in visione e ne ascolto e vuole aprire un punto vendita a Riccardo Corredi in franchising, metto la mia disponibilità personale con 40 anni di esperienza al tuo servizio. Investi su Riccardo Corredi. Festeggiamolo insieme il quarantesimo anniversario di attività di Riccardo Corredi perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare da 40 anni. Ciao!